Il duca e la duchessa del Sussex hanno scatenato un enorme contraccolpo dopo l'uscita della loro serie di documentari su Netflix, Meghan Markle e il principe Harry sono stati attaccati furiosamente dopo essere stati accusati di vanità profondamente sgradevole da un esperto della famiglia reale, che al contrario ha elogiato la grazia del principe William e Kate Middleton. I primi tre episodi della serie di documentari Netflix sul duca e la duchessa del Sussex sono stati rilasciati giovedì scorso. C'è stata rabbia dopo una scena in particolare, che ha visto Meghan scherzare sul dover fare la riverenza alla regina dopo che Harry ha raccontato la conversazione che ha avuto con sua moglie quando l'ha presentata per la prima volta al Monarca, ma un trailer pubblicato lunedì da Netflix per gli ultimi tre episodi della serie, in uscita giovedì, ha sollevato timori di attacchi contro la famiglia reale. Nella clip teaser, Harry dice che le persone erano felici di mentire per proteggere suo fratello maggiore, il principe di Galles. Punto punto. Neale Gardiner, un esperto di politica estera con sede a Washington e appassionato della famiglia reale, ha elogiato il principe William e Kate, principessa del Galles per il loro recente viaggio negli Stati Uniti, ma si è scagliato furiosamente contro il duca e la ha detto a Express.co.uk, il principe e la principessa del Galles hanno avuto una visita di grande successo negli Stati Uniti. Sono rappresentanti meravigliosi della famiglia reale e del popolo britannico. Grazie a tutti. Grazie a tutti.